Ministro Potevano scendere in 95 Perché siamo al centro safe Se non fa, givabbiamo Qua sopra Givabbiamo a compiore se... Se la situazione si fa troia Voglio andare più avanti in caso Anzi che chi va a fare l'indietro che introduce la gente con le armi Ma non vedo dove potremmo andare Volendo anche banca Ero giusto dietro Hai giusto dietro? Sì Sì ce ne hai uno Ti è salvato dietro Guarda lo sciacallo è libero E ci vale a farli tutti fuori Cassa di scorte identificata Posizione contrassegnata La terra Guarda dove spari Tutto posso farlo? Bella No Ho deciso uno Mi ho deciso uno Mi sono cagato addosso perché hai di tu Pensavo fosse un altro Mi stavo per sentire male Ti giuro mi stavo per sentire male Non ho urlato per tenere un minimo di virilità Ti dico solo quello No No Corazza qui Ma chi Ho detto che cazzo mi sta seguendo uno Cazzo mi sta seguendo uno Invece di tu Ma io non ho capito Ehm Quel tipo è venuto da solo non per ti coglioni C'è E poi ne aveva gettato Ragazzi o porco lasciate un'arma per favore Io c'ho una pistola Nelle mani Ho dato nemico in arrivo Oh Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato Ho uno scuolo più eh furro Nemico in discesa che non so dov'è Sì grazie Un attimo Un attimo Chris Ce l'ho scelto grazie comunque Mi ha dato nemico in discesa eh Eh lo so Re Sei qua? Si 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 Andiamo Andiamo dietro Sei tu andrille ste facendo tutto qual fracasso sopra Penso di si Prossimo obiettivo localizzato E' cro- Ah almeno non è crocn Pad no, ma non è da campo si, bello, allora un piedino, un lutto ahia, andato un po' più in faccia alla polca andai tu? ok vado più piano ma che cazzo smatte le polca adesso contratto completato tutte le casse di scorte trovate bersaglio taglia identificato, fuoco su quel bastardo ci ho fatto bene a prenderlo questo è camperato qui in movimento ci prendiamo l'auto? si si lascio soldi al negozio lo lancio dietro pompieri così magari non vede il fumo lo lancio dietro pompieri che si ma è soldi arriva un lancio d'equivalimento ah madonna come l'ha aspirato questo no dobbiamo prendere la taglia? veicolo distrutto si si shop o piastre? avete bisogno di piastre? ne ho tre prendi un uov ehm gg spesa i soldi tanti di soldi si arriva di uov qui ci sono soldi prendo high che è di zona taglia si si in in l'anegra no 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 che sono grande loro prendo high che qui sopra subito con le scale con l'ascensore e che cazzo ma per come se ne stanno li furono le vecchie dalla sopra eh io sto andando io adesso li dai dai non mi morite non mi morite non mi morite non mi morite sono 35 sozzi penso che l'ha lasciato a morire il tizio è la come non è qua giù movimento è una macchina c'è una macchina qua sotto c'è uno qua sotto uno tre non vedo un cazzo stanno andando a sciocco non ho messo i lott ma è giusto questo non c'è gente qui sotto ti manentato grande ma la gente qui sotto se n'è andata non lo so avevano appena preso la data i poveri cristiani eh si ah beh il tipo deve aver givappato non so cosa dirvi si l'ha visto che scappava era quello col barretto del bianchino da Renato mi avevo chiesto che lo vado facendo ma te lo vado sinceramente mi avevo chiesto che lo vado facendo mascherina mascherina eh scudi in più se volete eh andri andri no i soldi voglio oh oh con i tuoi soldi 5 piastre qui dan 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 angolifico dan grazie dan vedo ok testo fatto commos commos basta classe definitiva che ho trovato comunque vi ricordate che a breve movimento movimento puoi far prendere questo infarto dio porco non so come dirte dove sono nord est o nord è qua giù movimento sta volando è da furro da me non c'è nessuno questo di sul tetto si è un volante credo sia stato un volante stanno guardando se è libero l'ho d'auto tutto di qui questa è una città l'ho d'auto e una pittola l'ho d'auto interessante teoria giù a cassa piastre con foto ma se gli mettiamo 95 crema la foto aspetta a pure il mio o per quanto la merda la data del lotto di sto cazzo arriva fra 20 secondi un altro l'auto 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 arriva un lancio d'equipaggiamento ma domanda glielo facciamo davvero prendere questo è il discorso si è buttato uno soso del perrone spostamento della zona sicura ma li fanno anche a pingare di quanto sono lontani non so che fare sti cazzi di quei tre se volete si madonna qui c'è un 95 scudi ma grazie a quello io sono full eh anch'io lo trovo d'auto come golose ce la fate a metti questa taglia? oh c***o sono sceso lo dicevi qualche secondo prima si eh se mio padre aveva tre palle era un creeper ok eh fu roger me riva se mia nonna aveva tre ruote aveva una ruota io vado uap nemico in volo bersaglio taglia eliminato e vai quanta gente? quante casse? l'ho visto la cassa vado io aspetta non tutti assieme aspetta aspetta che non ti posso coprire aspetta ok serve a qualcuno che sta c***o che dite qua prende la lente hai prendi la lente poi vedi si 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 ci sta per bruciarla cassa di scorte pronta per il recupero la vogliamo fare? che dite? hai voti io voglio votare il su almeno che non compriamo direttamente il mio battante adesso il il chitterine in emozione è il dono si io avevo già i soldi per quello stessimo grittorio per me lo dava chiede tutte le porte la fa un culo obiettivi aggiornati Passare alla prossima area. Andrei ci sei. Io sto trovando soldi a scatto di cani. Sto... Sponto pompieri. Pompieri ok. Non lo so se sei. Io vorrei andare perché poi non c'è pieno. No, no, no. Dan si perde l'autoresta. Anzi, l'autoresta ti lascia su del drop. Allo, scioppa. Hai sentito sparare. Vito, Dan? E' arriva. C'è giù il terreno! Cazzo pieno di superiore! Non lo so! Venite! La terra? La terra? La terra è eliminato. La terra è eliminato. Io non ho eliminato l'altro. Ok, ne rimane uno. Si, è qua dentro. Movimento! Che asco sotto roba. E' sopra? Non lo so. Si, è sopra. Sono qui nel cazzo Dan. Ma forse è nella... Forse c'è due team, forse è uno dietro di te. Ha preso il camion, ha preso il camion raga. Sono due team! Sono due team! Saliamo sopra, saliamo sopra, saliamo sopra. Vado qua. Aspetta. Dante non si è preso l'autoresta. E' davanti, è davanti a voi ragazzi! Guarda lo shop! Guarda lo shop! Guarda lo shop! Che ce n'è uno! C'è un altro qua dietro! Arressato! In movimento! C'era gente allo shop! Ragazzi! Eccolo! E' un one shotissimo! Ragazzi dove siete? Io sono sul campanile! L'ho confermato il mio! Io sono nella merda! C'è un altro! C'è un altro! C'è uno che mi sta cechinando! Non salite! Non salite! C'è uno vicino al park! Penso! Zona park! Sì! Mi muovo di qua! C'è uno primo piano! C'è uno primo piano! C'è uno primo piano ragazzi! C'è uno primo piano! Eh non so che fare! Io vi pusho da sopra! Io sono al primo piano! Eh non c'è gente! C'è uno! C'è uno! Quello che ha arrestato! Bombardamento di precisione nemico! Arrivaro! E' esagerato! Ragazzi! Ci dobbiamo andare da qui ragazzi! Ci dobbiamo andare! Peleping ha uno a 50 metri sud! 50 metri sud in avvicinamento! Peleping ha uno a 50 metri sud in avvicinamento! Prendete l'autoressa! Prendete l'autoressa! Prendete l'autoressa! Mi lascia due! Che cazzo mi sparano? E' tizio! 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 Ho messo io le cariche eh! Ok! Sono due! Sono splittati! Hai visto? No! Non ho visto un pene! Oh! C'è un laser che entra dentro! Ragazzi dobbiamo andare da qui! Ragazzi sono down ground e sto andando via! Andri! Si! Che va paQ? 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 CHO! Ho trovato... Che va paQ? Che va paQ? Che va paQ? Che va paQ? ctoral CAWBAN LHO. Stanno ancora inseguendoci Io vado top Sono top con tre Che fate sono gli scemi Cassi in arrivo Sono qua dentro, sono entrati Siete voi nelle scale? Io sono sulle scale ma ci sono altre Sì, è nelle scale Siamo tutti nella zona sicura Sì, puoi salire È nella scale È arrabbiato come una bicia questo tizio Allora, se volete scappo Così li intrippo Sì, è nella scala Siete salvi Avete seminato gli inseguitori Una terra, una terra, una terra Ragazzo, arrivo No Vabbè Sono caduto davanti Ho il culo così morto Chi sopravvive lì Con l'entriccine E' ancora qua incazzato Mi sarebbe che tieni le scale Non sono minimamente le scale Ce ne andiamo, Andre Lancialo per sicurezza cosa merda Andiamo a cercare di un'altra L'autorità del tipo dentro Andiamo a cercare di un'altra Abbiamo noi due Il nostro compagno è stato sconfitto Stato a contatto alla base Posso dire porco il clero? Posso dirlo? Ti porco Ah, ok Sembrava una situazione un po' del cazzo Andiamo a restare a danno Andiamo a restare a cosa scena No, hanno restato due stronzi lì Dove stiamo andando? Holdiamo e aspettiamo Prima di restare Questi tipi hanno Secondo me sono i tipi dell'out Saranno già belli apparecchiati Non voglio fai dare Venditore marcato Avviciniamo soltanto allo shop Eccolo, l'ho finito Lo vedo Via 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 Vieni 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 con me Andiamo a restare a shop Vieni con me Aspetta, sono i grandi Sono i grandi Se ti seguono Non possono seguirmi Come fanno? Ma scusa Stai restato I tipi che stanno andando Per essere del lutto Arrivo Il tipo è morto lì Medio calibro Qui In camminare Gassi in arrivo Nuova zona sicura Contrassegnata Ci siamo in Flande Con tutana Io Adesso io Rimani lì Dan Ce la fai tornare Dove sei morto? Però per essere safely E' lui Allora Dietro 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 Da Dietro Non ho finito Cioè non ce l'ho Non mi dietro Non posso Senta che scappato Senta che scappato Vuoi varezzarti? No Vai al tuo loadout Sei safe? Sì sì Io sono safe Senta che un'altra Guarda prendere lì Sposto Bellino Hai la pelle dura Ce la farai Tiro piastre Prendi Prendi Vieni piastre Nei piastre Profi Sì Dai Via 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 Stai perdendo terreno Che cazzo di partita Prendi il cosmo Via via UAPI nemico in volo UAPI nemico in volo Ok Vengo lì Ho un camion nella vallata L'hai preso il tuo Sì sì La mia pezza l'ho presa Venga Quel pezzo di me dò Lo devo tritare Visto L'hai preso il loadout No Se volete lo compro Se volete lo compro Non adesso Non adesso Raga io non c'ho cassa piastre Sono seduto a merda Venite venite Io sono full E qui è pieno di cassa piastre Corazza Corazza qui Vabbè Sono solo davanti a noi Ma Dio porco Ma che è sto game Questo qua è qua Movimento Ma Dio porco Ma no ragazzi C'è questo game Questo qui è Camparato dietro i parenti Non sono me Di dove è Non so Dietro le tende Dietro le tende Camparato dietro le tende Non ce l'ho fatta pingare Perché mi ha finito prima Camparato dietro le tende Ma la gente sta male La gente sta male Pazienza soldato Presto sarai là fuori Camparato dietro le tende Ma è terzetti o quantetti? Perché mi sembra te è quantetti? Sì È terzetti Sarebbe a capire che questo qui Era pompieri da solo Camparato dietro le tende Eroe Io l'ho pingato mannaggia Eh io poi pensavo non dove ho sentito ping Ma pensavo fosse un muretto Invece che mi aveva girato Un'ora dietro le tende Eh sì Spottamelo Spottamelo Fai attenzione Presto sarai Il prossimo sei tu Preparati È sempre lì La guarda davanti a te Dove? Vangono 25 Grazie Vinci questo scontro E torni in prima linea Perdi E per te Tocca a te soldato Occupati di quello stronzo Ok Si è lanciato a due soldi Grazie Vieni all'out Vieni all'out No no Tu non rischiate Vieni all'out Arriva il gas C'è Ma come gioco con la gente Su camperati Su camperati Su camperati Su camperati Su camperati Eroi Gioco con la gente Guarda Il camperati su Su Di spiaggia Questi Di spiaggia Cazzo Cazzo Stanno uccidendo Poi di spiaggia Eh O classico Non l'ho dato Vado a vedere se posso scendere Mi posto in 6 Mi safe questo passo, mi movi in me Non so se c'è un po' di mazzone Oh Jesus Ma io non so studiato Sinistra, sinistra, casette sinistra, bellissime Anche disperto il muro Gassi inerrata, nuova zona sicura contrassegnata No mi piace questo cazzo, qui non devo più Chiudi la porta, chiudi la porta? Ah, dai, tra la porta e il muro Aspetta, si chiudono così? No, ho sbagliato Tra la porta e il muro, cosa vuol dire? Eh, così Così, vecchio Ok Uapin nemico in volo Da, ti pingo da dove ti sparavano prima In movimento Scusami, qui E' qui In movimento La gente è qui, si qui In movimento Fatti, eccoli Avete del gas in arrivo Ah, tu dovevi morire Ma ne hai chiesto E l'ho fatto Si, basta esauritemi Mi fatevi un infarto preverso È la casa, è la casa Questa è l'avanti Stazione medica, qui 10 rimasti Presso il primo Sei quasi Lo so che è stato Rinfai nuovo, mano Faccio Allora, la gente è qui Contatto Rimani, rimani, rimani Giochi a te Non mi danno mai Giochi a te Non mi danno mai Polizia piena Polizia, due tv, tre tv Cerate quello che ho detto Ti ho avuto soldi per chi sono Gente qui Nemici nell'area Nemici nell'area Trovami lutto Se ricevi del lutto Sei il mio eroe Attento al gas Mi cerchino Questi in volo Adesso Devo scendere Scusi Scendi, scendi Auguri Vorrei capire Dove cazzo Sono questi Dobbiamo portarci Nella Scusi Dai, tanti Craccatissimo No Ah, mi ha cecchilato Un tipo Del tetto Di nuovo Pezzo Di merda Sono scesi Stanno venendo tritati Atletta al gas Un ruolo No Che devo fare? Stai a piangere Cosa devo fare? Aspetta Stai a piangere Bota tempo così, puoi andare da questa parte, se ti escovo Secondo momento E' velocissima la secalezza, non si sta muovendo, eh? Tu non ti credo, bro, tu non ti credo, non ti credo, non ti credo Vabbè 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 Arrabbiati come visce